Nel 2010 sono state pubblicate le linee guida dell'Eular per il trattamento dell'artrite reumatoide in rapporto al costo-beneficio dei vari trattamenti. Ne parliamo con la dottoressa Fabiola Zeni in occasione di un incontro di farmacoeconomia che si è svolto a Firenze. Dottoressa Zeni, che cosa hanno valutato le linee guida dell'Eular? Quali elementi hanno preso in considerazione e quali farmaci? Queste linee guida, più che linee guida si tratta di raccomandazioni e Eular, sono andate a valutare sulla base di una revisione sistematica quale può essere il trattamento dell'artrite reumatoide in base agli aspetti economici. Quindi hanno valutato i costi dei singoli farmaci e hanno considerato quali sono più costi efficaci per il trattamento in prima, in seconda e in terza linea. Ecco, usiamo proprio questa differenziazione. Cosa è venuto fuori dalla linea guida? La linea guida è venuto fuori che nei pazienti affetti da early reumatoide artritis occorre effettuare sempre il trattamento con il metotrexate in monoterapia. Nel caso del fallimento del metotrexate, la seconda linea deve essere effettuata con l'utilizzo dell'anti-TNF più metotrexate. Nel caso del fallimento degli anti-TNF, la seconda linea deve essere effettuata con l'utilizzo di rituxima o abatacet. Ecco, quali sono però i limiti di queste raccomandazioni? Ci dà in generale un suo commento? I limiti sono dati al fatto che queste raccomandazioni si fermano alla revisione della letteratura del 2009. Quindi dal 2009 ad oggi sono state pubblicate diverse revisioni sistematiche, nonché sono stati pubblicati tre randomizzati e controllati che mettono in evidenza degli aspetti che non sono assolutamente stati trattati. Per esempio non è stato preso in considerazione un farmaco quale Tocilizum oppure non sono stati presi in considerazione farmaci quali Golimumab e Certolizum a Pegol. Quindi mancano dei farmaci in questa revisione sistematica che possono rappresentare un'altra opzione terapeutica sia in termini di efficacia ma soprattutto in termini farmaco-economici. Quando verranno aggiornate? Abbiamo qualche informazione in merito? Generalmente l'Eolar ogni 3-4 anni proprio in base al numero di lavori e anche agli impegni dei membri Eolar decide di fare un update. Per cui in questo momento in realtà non si sa quando verrà fatto l'update e questa è la recommendation dell'Eolar per il trattamento dell'artiteriomatoide in base ad aspetti economici.